Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Prima di iniziare il video haul di oggi voglio invitarti immediatamente ad iscriverti al mio canale YouTube se ancora non l'hai fatto e ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità e trend del momento. Un'altra cosa che voglio ricordarti è quella di seguirmi sulla mia pagina Instagram Ilenia Francini e lo lascio scritto qua perché lì troverai tutti gli outfit che io indosso durante le mie giornate. Bene, ora iniziamo con il nostro video haul. Già sorrido perché quello che ti mostrerò non appartiene alla stagione in cui ci troviamo perché è iniziato l'autunno già da un po' ma io ho voluto comunque acquistare tre costumi da un'azienda straniera e soprattutto low cost per la prossima stagione estiva così li ho già in casa e al massimo se mi capita qualche occasione quest'anno di andare alle terme o cose di questo tipo ho già il mio costume. Quindi io direi di iniziare e ti mostro quello che ho acquistato. Naturalmente troverai tutti i link in descrizione per poter fare anche tu il tuo acquisto. Il primo costume che ti mostro è questo. Sono tre costumi interi perché ho deciso di tralasciare i costume a due pezzi perché li trovo molto più indicati per una giornata al mare in spiaggia rispetto a un costume intero che puoi sicuramente sfruttare anche durante un aperitivo in spiaggia o durante altre tipologie di attività magari eventi sempre al mare ma in bagni privati, eventi in piscine, eventi come per esempio se vai alle terme lo trovo molto più indicato rispetto a due pezzi. Quindi questo è il primo costume che ti mostro. Il colore scelto da me è un verdone scuro, floreale. Amo la fantasia degli fiori quindi molti costumi che presento e che ho anche sulla pagina Instagram nel corso degli anni hanno una fantasia più o meno simile a questa. E naturalmente sul sito c'è in altri colori. La parte alta del costume è praticamente in tulle quindi molto trasparente. Spalline e parte retro è con una scollatura molto profonda e questi laccetti sulla schiena. Non è un costume particolarmente sgambato ci tengo a precisarlo quindi anche sulla parte glutei non c'è nessun tipo di problema nel senso che questo è rivolto a tutte quelle donne che magari preferiscono costumi un po' più coprenti. Questo è abbastanza coprente anche sulla parte glutei. Un altro costume che ti presento è questo ed è un costume un po' più colorato. Ho scelto un rosa un po' più sull'arancionato molto bello. Questo è molto particolare perché sul fronte ha questa tipologia di arricciatura. Questo costume lo sconsiglio sicuramente perché già su di me ha un effetto un po' di mettere all'ingrasso. Nel senso che se una persona ha un fisico dove concentra il suo grasso a livello fianchi pancia lo sconsiglio perché queste arricciature a questa altezza provocano proprio un ingrossamento del fisico. Stessa cosa per chi ha un seno molto grosso la parte alta del costume presenta la stessa tipologia di arricciatura che tende ad ingrossare ancora di più. Inoltre la parte del seno è imbottita. Spalline sottili e il dietro è un costume molto semplice. Il terzo e ultimo costume che ti mostro è un costume total black però monospalla e particolare perché ora ti faccio vedere è un monospalla quindi così questa è la parte alta e questa è la parte bassa. È molto carino e particolare ma anche molto chic ed elegante perché all'altezza della vita dove praticamente il costume ha questa apertura sulla vita viene collocata una fascia che tu puoi tranquillamente annodare in questo modo. Sul sito naturalmente trovi il costume total black l'unica cosa che cambia è la fascia che è sempre leopardata ma di un altro colore sul rosso sul verde questo va a seconda del tuo gusto. Anche per oggi abbiamo terminato il nostro video con la presentazione di questi costumi in stagione autunale questa cosa mi fa molto sorridere e quindi ti invito ad iscriverti al mio canale youtube accedere al mio canale telegram per rimanere sempre in contatto con me la mia vita privata e lavorativa e se non l'hai ancora fatto a seguirmi sulla mia pagina instagram. Noi ci rivediamo prestissimo anzi prossima settimana con un altro video youtube ciao